buongiorno buongiorno a tutti in quel di reggio emilia allora approfitto di questa bella giornata tra un po continuerò il mio tour nell'emilia romagna reggio emilia poi cesena in romagna poi andrò a ravenna e vabbè approfitto quindi di questo bel contesto naturale per respirare un po respiriamo un po di quella libertà che finalmente facebook ci ha permesso di dire sì perché adesso che biden e i suoi esperti hanno capito quel che già trump stava dicendo fin da subito cioè che ci avevano nascosto la verità i cinesi sull'origine di questo virus quindi un virus scappato scappato da un laboratorio di yuan finalmente adesso si possono dire anche queste cose e facebook stavolta non ci censura più facebook piuttosto che youtube ci sono praticamente persone che si sono viste resettare completamente tutto un lavoro di monetizzazione di archivio di library sul sui propri canali per esempio penso a claudio messora tanto per fare un esempio penso a diego fusaro sulla monetizzazione persone sono state praticamente cancellate perché dicevano quello che adesso biden e suoi consentono di poter dire ma noi lo sapevamo già non è che avessimo bisogno del passaggio a livello del semaforo verde di biden dei suoi scienziati lo sapevamo lo sapevamo benissimo il ruolo dell'organizzazione mondiale della sanità nel rendere meno trasparenti le informazioni e la verità sapevamo benissimo che a capo dell'oms ci sono persone assai 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 gradite alla cina e alle multinazionali nuove che guarda caso adesso che si sono posizionate adesso che bene o male dopo un anno e mezzo di emergenza covid hanno risanato i loro bilanci e adesso finalmente si può dire qualcosa certo si può dire un qualcosa che si riferiva all'inizio della della storia ma le nuove verità sul prosieguo invece della storia quelle non lo so aspettiamo un po di tempo prima di di poterle dire giusto giusto nel frattempo quindi scattano invece le continue censure l'etichettamento su chi continua a porre delle questioni sempre di libertà sempre anche un po di libera informazione per esempio sul vaccino e sul green pass allora sul vaccino il parlamento ha licenziato non con il voto di talexit noi siamo in tre solo al senato alla camera non c'è nessuno quindi è chiaro che alla camera di talexit non essendoci non può mettere luce rossa su quel decreto che prevede una discutibilissima una discutibilissima obbligatorietà vaccinale anche per il personale medico sanitario perché discutibilissima perché come vi abbiamo detto mille volte c'è una è in corso una fase di sperimentazione e quindi la stessa europa quell'europa che piace a tutti fin tanto che dice le cose che loro vogliono sentirsi dire quindi alla stessa europa che dice guardate che durante una fase di sperimentazione non si può rendere obbligatorio nessun vaccino ma siccome noi siamo i migliori servi della situazione cosa facciamo è obbligatorietà per il personale medico sanitario perché non sappiamo gestire le situazioni e ci ostiniamo ci ostiniamo a forzare a fare sempre prima degli altri delle cose che non sono richieste perché l'obbligatorietà nemmeno per il personale medico sanitario era richiesta anzi lo dice espressamente questo documento che arriva dall'europa siamo in una fase di sperimentazione quindi durante la sperimentazione non ci deve essere non ci deve essere l'obbligatorietà vaccinale ma aggiungo un pezzo perché parlando con i medici i medici giustamente mi dicono paragone ma se noi abbiamo l'obbligo di aggiornamento di studiare ed è proprio nella fase di studio che noi diciamo guardate che questo non è un vaccino nel senso tecnico della parola è una sperimentazione se permettete proprio perché stiamo studiando e non siamo negazionisti di un cazzo non siamo negazionisti di un cazzo proprio per questo che non vogliamo l'obbligatorietà vaccinale vogliamo essere liberi liberi di capire se farlo oppure no ma la parola libertà è una parola che non piace a certa gente o meglio piace soltanto quando hanno apparecchiato tutto e quindi consentono di dire che si può fare oppure no allora non essendoci l'obbligatorietà vaccinale stia autentici truffaldini questi questi zuzzerelloni questo potere diciamo la parola per quella che è questo potere cosa fa ti rende quasi obbligatoria la vaccinazione pur non essendola e quindi ti dicono questo non lo puoi fare non puoi viaggiare non puoi andare a mangiare non puoi andare in discoteca non puoi andare a fare le vacanze decidono loro che cazzo devi fare ma non è consentito loro di dirci che cazzo dobbiamo fare e se un vaccino tu non te lo vuoi fare perché non è obbligatorio e quindi mi avvalgo di questa facoltà di farmelo oppure no e devo essere trattato liberamente e non per questo meno diritti degli altri ve ne farete una ragione porca puttana altrimenti mi metti l'obbligatorietà vedi se hai il coraggio dopodiché inonderemo i tribunali di carte perché non è ammissibile non è ammissibile quello che sta accadendo allora come più volte vi ho detto fatto vedere abbiamo prodotto un documento un form che un modulo che si è compilato e mandato al nostro ufficio legale dà la possibilità di impugnare anche per il personale medico sanitario impugnare questi provvedimenti multidisciplinari che stanno già partendo partendo senza ripeto senza un un nesso quindi ai signori tutti questi professoroni che vanno in televisione e che nell'arco dell'emergenza covid hanno detto tutto e il contrario di tutto questo per dire quanto sono scienziati e quanto sono preparati no c'è penso a uno a un esempio su tutti no burioni il principe dei dotti dei medici dei sapienti che ripeto ha detto tutto il contrario di tutto siccome non vedeva l'ora di parlare perché è a contratto con la rai nella trasmissione di fazio quindi ovviamente ti racconta sempre il pezzo l'ultimo pezzo della verità che vorrebbe che vorrebbe raccontare quindi l'obbligatorietà vaccinale non c'è il green pass non può essere una limitazione della libertà di circolazione non lo può essere se ne devono fare una ragione e ripeto dobbiamo attraverso le associazioni di categoria attraverso le associazioni legali che si stanno mettendo a disposizione attraverso anche il nostro lavoro noi dobbiamo inondare i tribunali di carte perché loro stanno facendo un'operazione sporca adesso oggi leggevo di un'intervista ad una pediatra diceva dobbiamo far fare il vaccino anche ai ragazzi agli adolescenti così possono tornare alla serenità ma porca puttana dopo un anno di didattica a distanza un anno chiusi dentro in casa i ragazzi sono proprio in preda a un delirio un delirio che il mondo dei grandi non ha saputo gestire che purtroppo è frutto di questa limitazione delle libertà adesso cosa vogliamo fare obbligatorio di fatto il vaccino perché è obbligatorio di fatto perché se dici che non possono andare in giro si può ridisgraziati pur di prendersi quella libertà sono anche disponibili a farsi vaccinare ma non perché lo vogliano o perché sappiano un ragazzo di 12 anni 13 anni 14 anni sta già bene non ha bisogno del vaccino lasciate perdere soprattutto in questa fase di sperimentazione allora io e vado a chiudere non ho voglia tra un po di tempo di sentirmi dire da qualche stronzo effettivamente sull'obbligatorietà vaccinale qualcuno si è lasciato sfuggire qualcosa beh effettivamente forse sul 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 vaccino non abbiamo detto bene tutto perché in fondo eravamo in sperimentazione non lo sapevamo non potevamo non non sapere non potevamo e no non vale cioè non è che quello che è successo adesso che dopo un anno praticamente si possono dire le cose che diceva già trump prima a proposito delle irresponsabilità dell'organizzazione mondiale della sanità e sull'origine del virus cosa facciamo e ripeto e facebook che bloccava tutto facebook youtube non potevi dire un cazzo perché sennò ti bloccavano i signori della libertà la libertà quindi cosa facciamo fra un anno escono fuori ci diranno vi ricordate di quelli che dicevano che fin dei conti siamo in una fase di sperimentazione il vaccino non era proprio un vaccino e quindi e cosa dobbiamo aspettare quel tempo per poter poterci sentir dire che abbiamo ragione ma non ce ne frega sentirci dire che abbiamo ragione non ci interessa vogliamo che adesso non si rovinino il nome di una pseudo verità di pseudo libertà si rovinino le le persone questo non lo voglio ripeto voglio che sia rispettata anche la mia libertà non vaccinarmi e non sto recando nessun danno nessun danno perché tanto praticamente avete vinto lo dico agli altri non siete contenti dei vaccini che avete fatto e allora lasciate perdere se volete che la mia libertà non vaccinarmi diventi fuori legge allora dovete rendere obbligatorio ma attenzione però perché non è che la pazienza è infinita non è che la pazienza è infinita basta con questa storia che continui a ledere la libertà perché non ti piace la libertà mia e sennò siamo le solite quindi tutto questo per per dire che il green pass va impugnato ai medici che sono vittime di provvedimenti disciplinari dico impugnate ormai ci sono avvocati che stanno appunto confermando la non solo la illogicità di quell'obbligo vaccinale che il parlamento non vedeva l'ora di di votare e che ripeto io non ho votato italexit non ha votato ma c'è una anche un difetto forse di costituzionalità e quindi bisogna impugnare e bisogna sperare che ci sia un processo che si apre in modo che in via incidentale questa cosa può essere fatta e comunque anche a livello parlamentare cercheremo noi di italexit di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità intanto ripeto noi abbiamo da tempo messo in rete un form un modulo che si è compilato e si è spedito a legalchiocciola italexit.it vi dà la possibilità di avvalervi dei nostri avvocati gratuitamente per promuovere questa contestazione questa contestazione va fatta questa contestazione va fatta quindi io tra l'altro tra le altre cose sono proprio curioso di vedere se davvero il centrodestra a milano punterà su una dirigente di federfarma perché quello sarebbe il capolavoro siamo passati dai tecnici che sapevano tutto di e quindi niente di economia adesso e quindi ci consigliavano quello che era giusto quello che era sbagliato nel momento che di fatto già sta accadendo questo con i cts si fa sostituire per il posto di sindaco di milano da una dirigente di federfarma ecco ecco dove è arrivato il delirio di una classe politica che è senza palle quindi forse anche per questo varrà la pena votarmi a milano come come sindaco come vostro sindaco perché comunque almeno avrete la possibilità e avrete la certezza che non sarei un sindaco che è manipolato o manipolabile dalle multinazionali tra cui anche big pharma va bene ma tanto noi il nostro percorso la nostra battaglia vera la condurremo a milano così come in tutta italia questo è il motivo per cui oggi sono a reggio emilia più tardi sarò a cesena poi a ravenna e poi domani ferrara quindi insomma la predicazione italexit continua tra l'altro anche ieri a reggio veramente tantissime persone poi sono andato in trasmissione da paolo del debbio e con un bel calice di lambrusco ho brindato al vino italiano che l'europa vorrebbe annacquare e ho salutato ieri sera a tavola il grande cibo della tradizione culinaria emiliana che ancora una volta dobbiamo difendere dalle bastardate dell'europa in nome del nutri score e altro va bene ragazzi io vi abbraccio vi ringrazio perché siete tantissimi stamattina in diretta tantissimi tantissimi collegamenti vi mando un abbraccione da reggio emilia dopo vi farò una sorpresa forse soltanto una foto perché voi sapete che reggio emilia è puntini puntini ma ci vediamo alla prossima o di rettina o al prossimo post ciao ragazzi